Amici. Giulia Stabile dopo essere stata criticata, queste persone non riusciranno più a farmi del male. Giulia Stabile la ballerina che si è aggiudicata la vittoria di Amici 20 a quanto pare oltre a essere sommersa da tantissimi complimenti per la sua bravura si trova anche a leggere critiche sui social. Dopo aver trionfato nel noto talent show, la giovane romana ha saputo replicare nel migliore dei modi, a un utente della rete che l'ha provocata tramite con uno screenshot pubblicato tra le stories del proprio profilo Instagram, scrivendo, queste persone non riusciranno più a farmi del male. Giulia Stabile offesa per la sua risata contagiosa dopo amici. So che esiste tanta cattiveria. Nei giorni scorsi è emerso che Giulia Stabile una delle allieve di Amici 20 da bambina è stata vittima di bullismo. Ciò non è bastato affermare i leoni da tastiera. La ballerina dopo aver vinto il programma condotto da Maria De Filippi è stata difesa da uno dei suoi tanti fan, non appena un utente della rete su Instagram ha scritto. Ma questa ragazza sa dire una parola? Ride e basta? La persona in questione con tale critica probabilmente ha stuzzicato la vincitrice del talent show, per il fatto di contraddistinguersi dagli altri allievi per la sua risata contagiosa. Giulia non ha soltanto ringraziato la fan che si è schierata dalla sua parte. E, bello sapere che c'è comunque tanta gente che mi ha capita. In particolare la ballerina si è sfogata tramite lo stesso post pubblicato su Instagram scrivendo. So che esiste tanta cattiveria e la gente non ci pensa due volte prima di scrivere qualcosa che potrebbe ferire realmente una persona. Amici. Giulia Stabile sull'esperienza nel talent. Mi ha aiutata a crearmi una corazza. Giulia Stabile ha continuato a difendersi dall'attacco ricevuto sui social, sottolineando che grazie ad amici 20 ormai reagisce in maniera diversa. Per fortuna questa enorme esperienza mi ha aiutata a crearmi una corazza. Infine la vincitrice della scuola che sforna talenti che ha fatto rivivere un'emozione già vissuta in passato alla maestra Veronica Peparini, ha concluso. Vorrei che queste persone non perdessero tempo e che pensassero a vivere al meglio la loro vita piuttosto che sprecare minuti ad insultare una ragazzina che è riuscita a realizzare il proprio sogno. Buona vita e ridete più spesso. Giuro che è bellissimo.